Gli affreschi si trovano nell'abside e attualmente questo spazio è separato dal presbiterio e da un muro che è stato costruito successivamente. Tutte queste riadattazioni dell'ambiente sono dovute al fatto che il convento in epoca napoleonica è stato dismesso come luogo di culto religioso per diventare caserma. Ottavia Semina è l'artista che ha dipinto e affrescato l'abside del San Giacomo. L'abside si presenta con una crucifissione, un'orazione dell'orto e una flagellazione. Questi sono dei temi iconografici molto ricorrenti, specialmente se si pensa al contesto in cui questi sono localizzati. Cioè siamo in un convento di frati francescani, negli ordini degli osservanti. L'affresco ha una tecnica particolare che ha origini molto antiche e prevede di stendere il colore su un intonaco bagnato. E' per questo che si dice affresco. I colori venivano stemperati, i pigmenti venivano stemperati in acqua e posti sull'intonaco bagnato. Quando l'intonaco asciuga riesce a trattenere il pigmento e quindi questo diventa parte della materia. La peculiarità della tecnica d'affresco la si riconosce perché è simile all'acquarello, come diciamo tecnica più familiare, quindi molto brillante, molto trasparente e non si vede la pennellata. Non si vede la pennellata appunto perché quando veniva steso il colore questa veniva risucchiata in qualche modo dalla materia. E' palese perché appunto vediamo questa brillantezza, questa trasparenza del colore e ci sono altri segni che denotano l'utilizzo di questa tecnica, ovvero le incisioni. Le incisioni potevano essere indirette o dirette. Erano delle incisioni sull'intonaco fresco che servivano all'artista per riportare il disegno preparatorio sulla parete. Essendo stato utilizzato l'affresco è un'opera che a forza resiste nel tempo. Probabilmente se fosse stata una tecnica tempera non ci sarebbe stato più niente di quest'opera. Le affresche adesso volgono in una condizione di profondo degrado, soprattutto perché sono stati lasciati in una condizione di abbandono, totale degrado. Il tetto ha delle rotture, comunque dei problemi di impermeabilizzazione. Per questo motivo l'acqua penetra e porta in soluzione diversi sali. Inoltre non c'è un pavimento. All'interno di quest'ambiente dell'abside non è isolato il suolo, per cui si ha un diretto contatto col terreno. Questo comporta un mancato isolamento e anche qui nel suolo sono presenti dei sali che vengono portati sempre in soluzione per una risalita capillare fino all'altezza di 2 metri, 2 metri e mezzo. Questo è un fenomeno presente in generale. In qualsiasi ambiente è ripresente questa umidità di risalita, viene chiamata. Però nel San Giacomo è ancora più presente perché appunto c'è il terreno. E quindi questo mancato isolamento porta un maggiore rapporto di sali. Un altro problema degli affreschi ma in minore misura è sicuramente lo scialbo. Lo scialbo è questo strato di calce che veniva steso sulle decorazioni. Si era solito appunto dare una mano di bianco per igienizzare un ambiente, per coprire una decorazione che era rovinata, oppure semplicemente per cambio di gusto. Cosa succedeva? Che veniva appunto stesa al bianco e noi perdiamo la decorazione perché non la vediamo più, però è ancora recuperabile. Nell'abside notiamo che fino a una certa altezza c'è questa cornice bianca che ricopre gli interi affreschi da una certa altezza fino al suolo. Questo è lo scialbo e sotto questo possiamo trovare ancora delle decorazioni. Una parte è minima perché naturalmente gran parte dell'affresco è visibile, ma sotto appunto dove c'è questo strato bianco noi con un'azione che si chiama de scialbo appunto possiamo recuperare la decorazione sottossante. I sali sono il problema principale che presentano questi affreschi perché questi con la loro azione di cristallizzazione e solubilizzazione vanno a spaccare l'intonaco, l'intonachino in particolare degli affreschi. In particolare i più dannosi sono i solfati. I solfati creano delle piccoli crateri sull'intonachino. Quando parlo diintonachino mi rivolgo la parte più superficiale dell'affresco ed è la zona interessata dalla decorazione, quella dove noi vediamo i colori. Quindi i solfati, una loro azione distruttiva, portano a una creazione di questi crateri che disgregano completamente l'opera e una volta che viene innescata questa reazione, fermarla è difficile. È difficile ma non impossibile. Penso che per recuperare al meglio gli affreschi sia necessario prima provvedere a un recupero della struttura generale. Per il restauro si dovrebbe operare dapprima con un consolidamento dell'opera, ovvero si cercherà di riportare la coesione della materia sull'intero affreschi. Il colore sta cadendo ed è importante fermare questo processo. Successivamente si attuerà il descialbo e quindi eliminando tutta questa parte bianca nella parte inferiore degli affreschi, già l'occhio riuscirà a deviare sulla composizione artistica. Il compito del restauratore è sempre quello di guidare l'occhio del visitatore sull'opera e non sul degrado. Noi non possiamo intervenire inventando nulla, quindi quello che è stato perso ormai non si recupererà più. Quello che possiamo fare è valorizzare, conservare e mantenere quello che ancora è rimasto. Grazie! Grazie! Grazie.